salve a tutti amici youtube benvenuti o bentornati sul mio canale oggi torno con un video da una nuova location per parlarvi di telefonia è un video che parla di wind 3 sapete benissimo che è stata completata la fusione al cento per cento di wind e di tre anche per quello che riguarda la comunicazione anche per quello che riguarda i siti internet e la rete la rete infatti adesso è la rete unica wind 3 non esiste più il sito di tre non esiste più il sito di wind esiste un solo sito in tre e un'offerta commerciale diciamo nuova andremo ad affrontare con questo video una nuova estetica per quanto riguarda quella che l'immagine di wind 3 sfondo arancione quindi richiama il mondo wind la v di wind con vicino il logo di tre questo richiama un po quello che comunque invece già a suo tempo vodafone con l'acquisizione di omitel che per un certo periodo di tempo associava il logo rosso di vodafone al logo verde di omitel per poi passare a un logo solamente quello di rosso che conosciamo oggi di vodafone chissà se da qui a qualche anno rimarrà come brand wind 3 oppure verrà cambiato in un altro brand al momento si parla di wind 3 il sito come ho detto è wind 3 punto it se siete possessori di una sim o wind o tre scaricate la nuova applicazione fate la registrazione così potete accedere a quelli che sono i contatori il consumo consumo di giga il consumo di minuti se avete dei minuti e non è limitato poter fare le ricariche vedete il dettaglio alle chiamate e altro scendiamo nello specifico nei piani io adesso devo parlare in linea teorica quando finirà questa situazione che coinvolge tutti quanti noi vi farò anche delle prove sul campo prenderò una sim win 3 vedrò un pochettino quali sono le performance della rete unica partiamo con il primo piano io intanto mi sposto con lo sguardo con il computer davanti a me ed è l'offerta 5g ready quindi già pronta per il 5g che si chiama unlimited 29 euro e 99 al mese e ha nel suo interno il suo pacchetto prevede giga illimitati d'accordo poi prevede minuti ad sms illimitati per 29 e 99 al mese appena sarà disponibile il 5g verrà reso disponibile senza costi aggiuntivi quindi ovviamente a nome alla qualità top della sua rete con i giga inclusi nell'offerta si naviga alla massima velocità quindi nessuna limitazione ed è possibile aggiungere uno smartphone all'offerta con un anticipo 0 quindi anticipo 0 0 si può avere un s20 ultra 5g a 28 euro e 99 al mese più l'offerta che vi ho detto di 29 euro e 99 oppure con 0 anticipo 0 anticipo e incluso nei 29 99 potete avere un huawei i 40 light parliamo qui di vincoli se prendete anche il telefono a 24 mesi e tengo a specificarlo c'è la postilla condizioni valide con offerta indicata attiva per 24 mesi con carta di credito o sdd sdd significa la debito su conto corrente bancario esempio rappresentativo di un samsung galaxy s 20 ultra 5g con all'inter easy pay easy pay è la modalità appunto di a debito automatico della ricarica che va a rinnovare l'offerta e importo aggiuntivo al mese e sconto di 17 90 al mese per 24 mesi passiamo alla seconda offerta di wind 3 che si chiama extra large costa 16 euro e 99 al mese e da 60 giga a disposizione di navigazione al mese minuti limitati e 200 sms a 16 euro e 99 al mese quando non abbiamo il 5g ready quindi quando ci sarà bisognerà pagare per il 5g sempre massima performance sulla rete win 3 top quality network e con easy pay sempre quello che dicevo prima ti dimentichi della ricarica paghi comodamente con carta di credito conto corrente carte conto anche qui la possibilità di prendere telefoni sempre con anticipo 0 c'è la possibilità di vendere un iphone 11 pro da 256 gigabyte a 37 euro e 99 in più al mese oppure un iphone 11 64 gigabyte sempre 0 anticipo a 19 euro e 99 al mese passiamo invece adesso a quella che è definita large ha visto la limited ha visto extra large la large che ha per 14 euro e 99 al mese 40 gigabyte di traffico internet sempre alla massima velocità minuti limitati 200 sms sempre come detto la top speed la modalità easy pay quindi la ricarica automatica e 0 anticipo la possibilità di prendere un huawei ii 30 pro da 128 gigabyte 18 euro e 99 al mese oppure un redmi note 8 t con 0 anticipo e incluso nell'importo mensile vi ricordo sempre il vincolo di 24 mesi e adesso andiamo a vedere l'ultima offerta che si chiama medium non esiste la smollo costa 12 euro e 99 al mese a 20 gigabyte di traffico dati mensili a minuti limitati 200 sms modalità easy pay top speed nessuna limitazione sulla velocità top quality della rete della rete unica win 3 e qui i telefoni che possiamo prendere sono un samsung galaxy s 10 da 128 gigabyte con 0 anticipo e 14 euro e 99 di contributo mensile oppure 0 anticipo e 1 euro e 99 al mese il huawei p smart z sempre vincolo di 24 mesi d'accordo poi condizioni di contratto le trovate sul sito wind 3 punto it ma ovviamente win 3 non è solamente offerta mobile è anche offerta fissa quindi la connettività vende un'offerta commerciale che si si chiama super fibra che a seconda della disponibilità contempla come caratteristica una velocità fino a un gigabit chiamate limitate attivazione gratuita quindi non ci sono spese di attivazione a 19 euro e 99 al mese il modem che viene fornito in vendita abbinata ha un costo di 5 euro e 99 e servizio assistenza gratuito ci sono alcuni operatori che danno il modem gratuito però l'assistenza a pagamento oppure un'assistenza prioritaria viene offerta a pagamento qui l'assistenza in qualsiasi caso è sempre gratuita un'offerta molto molto semplice vi ricordo che il costo del modem è a parte quindi 5 euro e 99 perché l'autorità l'agicom ha dato la possibilità a seguito di una sentenza che i consumatori possono possano avere accesso alla rete del proprio operatore telefonico anche con un modem libero quindi un modem generico configurato con i parametri dell'operatore può essere utilizzato ora gli operatori telefonici producono modem che molto difficilmente possono essere aperti giusto per farci capire se prendete un modem di team molto difficilmente riuscite a configurarlo con i parametri di wind 3 però ci sono tanti tipi di modem con prestazioni anche molto molto buone in alcuni casi anche superiori a quelli che forniscono gli stessi operatori telefonici che potete comprare liberamente sul sul mercato ora però dovete sapere che i modem liberi molto difficilmente si vanno a conciliare con quella che è l'offerta di telefonia quindi la possibilità di effettuare telefonate perché perché sfruttano la rete voip e non sempre facile configurarli o determinati casi è impossibile configurarli quindi per questo le aziende di telefonia forniscono a un costo aggiuntivo il modem per navigazione e telefonia voip non mi addento nei tecnicismi però comunque ci sono anche operatori che forniscono il modem in comodato d'uso gratuito a zero però per quanto riguarda la normativa in vigore bisogna dare l'opportunità al cliente di poter decidere sì voglio il modem no non voglio il modem mi sono voluto dilungare perché è una cosa particolarmente importante con questo io vi ringrazio che ho visto questo video vi invito a iscrivervi al canale attivare le notifiche la campanellina mettere un bel mi piace condividere questo video se l'avete reputato interessante e che cosa dirvi andrà tutto bene ricordato andrà tutto bene d'accordo io vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao